Casturo è l'impasto Trapani, va a tirare Trapani! Trapani! Una vittoria al fotofinish nel ricordo dello storico presidente Ciro Melillo, un successo che ha permesso alla Scandone di rialzare subito la testa dopo il K.O. contro la Miwa Benevento. Il 74-72 contro Marigliano conferma la forza di un gruppo che vuole provare ad entrare tra le grandi. Sei punti in quattro gare per il Lupacchiotti che hanno dovuto rinunciare a Cianci infortunato e comunque hanno recuperato Bianco, autore di sei punti. Migliori in campo Soliani, autore di sedici punti. Solo Molfetta, Corate e Angri hanno fatto meglio della squadra Bianco-Verde. Davanti ad un migliaio di spettatori, Lupacchiotti riescono a portare a casa i due punti a crosecondi dal termine senza mai arrendersi trovando il canestro decisivo con Capitan Trapani. La vittoria è tutta racchiusa nel tiro finale del numero 57 e nella corsa di Nino Sanfilippo, tra i principali simboli di questa rinascita. Nel prossimo weekend sarà un nuovo match casalingo per il roster Bianco-Verde. Sabato alle 20 la Scandone ospiterà Basket Corato al Pala del Mauro per il quinto turno del GNG di Serie B Interregionale.